ah beh dovevo fare il video sul tampa pro però è successo quello che è successo quindi quel video è posticipato penso o a oggi o più tardi o comunque in questi giorni comunque come avrete sentito è morto john meadows noto anche come mountain dog e lui era un bodybuilder di 49 anni ifb pro si intende infatti qui lo vedete sul palco dell'arnold classic alcuni anni fa lui era tra l'altro di columbus che è la città dove fanno l'arnold classic ed è morto nella notte nel sonno non sono state rivelate ancora le cause del decesso però c'è da dire che lui già l'anno scorso aveva subito un infarto poi non so quanti di voi lo conosce essero o lo seguisse però a me diciamo che non piaceva particolarmente con bodybuilder e non ha neanche gareggiato chissà quanto in vita sua è diventato pro solo nel 2015 e poi ha gareggiato poco alternandosi soprattutto alla 212 e qualche rara apparizione nella nella open senza fare grandi risultati però la sua fama più che altro è nata è nata e data dalla sua conoscenza di alimentazione e integrazione e infatti aveva un canale youtube molto conosciuto veniva visto da molte persone se non sbaglio 500.000 iscritti una cosa del genere questo è uno degli ultimi video che ha postato con sean clarida il vincitore del mister olimpia nella 212 e quindi lui era una specie di guru per quanto riguarda allenamento tecniche di allenamento alimentazione integrazione e in passato ho visto anche alcuni sui video tra l'altro se sentite questa sirena penso sia un allarme di qualche appartamento che sta suonando da molto pensavo che avesse smesso qui ho detto faccio il video però non ha smesso quindi aspettiamo di sapere le cause del decesso però avendo già avuto un infarto e sapendo che spesso i bodybuilder hanno problemi di cuore di pressione e cose del genere do quasi per scontato che sia questa la ragione del del decesso poi chiaramente prima che qualcuno inizi quei soliti discorsi non è che tutti i bodybuilder muoiono ne muore uno e allora è colpa gli steroidi magari hanno anche contribuito chi lo sa però alla fine secondo me uno vive la vita secondo le proprie regole a prescindere che sia anche nel suo bodybuilding o il lavoro o il fatto di avere relazioni sentimentali con persone che non ci fanno bene o qualsiasi altra cosa che facciamo alla fine io penso che si deve vivere la vita secondo le proprie regole secondo le proprie leggi fin tanto che questo chiaramente non lede la libertà l'incolumità altrui e alla fine se questo era quello che lui ha scelto per la sua vita alla fine se ne va facendo quello che voleva fare perché chiaramente nessuno vuole morire però questo è quello che che è successo poi per chi conosce l'inglese immagino potete guardarvi il il suo canale che ha tante informazioni utili io in passato ho visto alcuni video e per quanto non mi interessi guardare video di allenamento di alimentazione integrazione ho trovato consigli utili comunque ci aggiorniamo più tardi per per il tampa pro buona ciao